Ivan Francescato, prima di parlare della 4 Torri Volley parliamo di te, oltre a darti il benvenuto per essere arrivato nella famiglia Granata. Anche parlando di te parliamo di Beach Volley con le finali a Catania da venerdì a domenica che ti vedono protagonista. Sì, salve a tutti, il Beach Volley è una passione e quindi quest'anno, quest'estate mi sono cimentato su questo sport e da venerdì a domenica c'erano le finali del campionato italiano e speriamo che vadano bene. In bocca al lupo allora, cosa ne pensi invece della nuova società? Per ora avrai conosciuto i compagni, che impressione ti ha fatto l'ambiente e che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Sì, oggi è il primo giorno che sono qui a Ferrara e sono venuto qui perché parecchi amici nel settore mi hanno detto che la società era molto seria, c'era buone ambizioni e mi hanno parlato bene di tutto quello che riguarda la Palavolo 4 Torri Ferrara. Che cosa ti ha chiesto in particolare la società di portare dal punto di vista tecnico oppure dello spogliatoio? Beh, penso che il mio ruolo è un ruolo importante all'interno di un gruppo e quindi devo portare la mia esperienza visto che sono parecchi anni che, ahimè, che gioco e quindi niente. Poi il valore aggiunto appunto penso sia anche il gruppo, quindi dobbiamo cercare di conoscerci il prima possibile e di regalare il prima possibile tra di noi. Dove ti aspetti che possa arrivare questa squadra alla fine della stagione? Beh, da quello che ho capito l'obiettivo è la salvezza, quindi penso che dobbiamo lavorare da quel punto di vista lì. Dopodiché se riusciamo a giocare bene e a seguire bene il mister, tutto quello che viene in più è guadagnato.